Non c'è niente, ma non si sa giocare a calcio, così qua la loro idea di calcio è prendere la palla e spazzare. Ognuno trova la propria testa della propria testa. Sì, la viste! Sì! 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 È Luca! Luca! Sì! Bravo! Sì! Sì! Bravo Luca! Primo gol della stagione! Primo gol della stagione! Ha ha! Fate e poi non lo scusate! Ho ragione! Un progetto! Ho ragione! è meglio sulla camera è meglio sulla camera è affattinata ma che fatti ma l'azza è affattinata bravo 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 bravo